L'ordine di Francesco Hanno paura della debolezza Ma con la paura Il mondo non avrà mai pace La fraternità non può essere un rifugio Per chi infrange la legge Questo non è possibile Hai un peso nel cuore Non vuoi più il tuo ordine Elia Conosci la gioia di cui Francesco parla? Vivere tra i più povere E obbedire alla propria coscienza La vita che Francesco ci offre È un sogno magnifico Ma per viverlo Dovete renderlo possibile Ave Maria Grazia 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 Ave Maria Grazia